Comincio con il dire che questa breve relazione partirà con una domanda, con una serie di domande e si concluderà con le stesse domande e quello che cercherò di fare sarà cercare di dare una prospettiva storica a queste domande e vedere anche come la Regione Puglia ha cercato di rispondere a queste domande nel tempo. Quali sono queste domande? Innanzitutto cos'è la Regione e poi due domande che fanno da corollario questa domanda più importante, che cosa fa la Regione e quali rapporti ha con gli altri centri di potere. Per farlo ho così rassunto un po' quella che è stata la storia delle regioni, vorrei soffermarmi innanzitutto sulla Costituzione del 1948, gli articoli 5 e poi il titolo V. Qual era il problema alla base? Il problema di fondo era cercare di coniugare l'autonomia e il decentramento con l'unità e l'indivisibilità della Repubblica. In realtà è stato un problema non pienamente risolto, ci vorranno vent'anni e più perché le regioni potessero nascere, ci vorranno poi circa un anno e mezzo, due anni perché le regioni potessero svolgere la loro funzione di tipo legislativo, perché ecco lo Stato doveva prima emanare 11 decreti delegati con cui appunto delegava le funzioni alle regioni. In realtà si trattò di una delega un po' monca, nel senso che furono ritagliati parti di funzioni, la legge del 75, la 382, poi il decreto delegato del 77, cercarono di risolvere, di ampliare quelli che erano gli spazi legislativi della regione, in realtà non ci riuscirono pienamente. Questa legge però è importante perché introduce anche il problema degli enti locali. Quindi qual era il ruolo dell'ente locale? L'ente locale doveva essere oggetto di delega di quelle che erano le funzioni amministrative e non doveva essere considerato una sorta di figlio minore sottoposto alle regioni, ma essere un elemento in continuo dialogo con le regioni. Fu anche questo un problema non risolto, tant'è che poi appunto si dovrà aggiungere alla legge 142 del 1990 perché appunto il problema potesse essere nuovamente affrontato. Ma siamo già in un periodo di crisi anche della regione, siamo già sulla strada verso quelle che saranno le leggi Bassanini e la riforma poi del titolo quinto del 2001. Vado molto velocemente, sono cose che credo abbiate fatto anche negli altri seminari, comunque facilmente poi rinvenibili anche sul web. Cosa succede dopo la riforma del titolo quinto? In realtà succede che sono anni caratterizzati da leggi, da poche leggi attative del dettato costituzionale, da referendum costituzionali fallimentari, gran confusione e da un intervento massivo della Corte Costituzionale che andando anche oltre quelle che sono le sue, quello che è il ruolo della Corte Costituzionale e per supplire anche alle carenze politiche di governo è intervenuto pesantemente per interpretare la nuova Costituzione del 2001, però in realtà ha segnato un ritorno, progressivo ritorno al verticismo istituzionale. Allora a questo punto vorrei fare un po', illustrarvi quelli che sono due punti di vista secondo me molto interessanti. Il primo è quello di Maruccia Salvati che insieme all'Ordana Sciolla ha curato questo volume in quattro, in questo, quest'opera in quattro volumi del 2015. Cosa dice Maruccia Salvati? Ecco, parte dal dilemma del 1948, come in qualche modo riuscire a coniugare autonomia e indivisibilità della Repubblica. Questo dilemma, dice Maruccia Salvati, è stato in qualche modo risolto con la scelta di rendere i partiti politici una sorta di sostituto delle rivendicazioni delle autonomie locali. Ed era il partito con le sue articolazioni territoriali a dover fornire lo spazio istituzionale in cui garantire al cittadino il diritto alla piena partecipazione alla vita politica nazionale. Si veniva quindi a creare una sorta di nesso, ecco, tra nazione, cittadinanza e rappresentanza, sia locale che nazionale, che veniva veicolata dal partito. Ed è quindi emblematico che le regioni nascono proprio nel 1970, cioè quando la società civile, cioè è proprio il punto più alto di un percorso durante il quale la società civile chiede un allargamento della partecipazione democratica, pensiamo al 68, pensiamo al 69, tutto quello che le riforme, ecco, che caratterizzano questi anni. Il problema è che quelle pressioni da parte della società civile, da un lato producono riforme ispirate alla giustizia sociale, si pensi all'assoluto dei lavoratori, si pensa alla nascita del sistema sanitario nazionale, però dall'altro diventa uno strumento di consenso politico che però alimenta un sistema elettoralistico clientelare che poi sarà determinante per la disgregazione del sistema partitico. Solo che se sul sistema partitico si reggono il concetto di autonomia, di recentramento e quindi anche quello delle regioni, nel momento in cui questo sistema crolla, crolla anche il sistema regionale. Ed è quello che accade negli anni Ottanta e poi nei primi anni Novanta. Altro aspetto fondamentale connesso a questo è il fatto che proprio a partire dagli anni Ottanta cominciano a esplodere nel paese contraddizioni che esplodono non più su linee di divisione soltanto culturale e sociale, ma anche geografica, territoriale, si pensa al reghismo. Filippo Sbrana in questo intervento che si è avuto durante un convegno della LUM, si è organizzato proprio un mesetto fa online, ha sottolineato che proprio la nascita delle regioni ha fatto sì che i territori divenissero fattori di identificazione, cioè diventissero in qualche modo espressione di nuove sensibilità, di nuovi bisogni legati al territorio di riferimento. Il corticicuito nasce nel momento in cui a livello istituzionale, a livello dei regioni ovviamente, ecco questi problemi non riescono a trovare risposta. Ecco mi sembrano due punti di vista, due riflessioni, due considerazioni importanti per il tipo di discorso che stiamo portando avanti. Ma andiamo avanti perché cosa succede a un certo punto? Che a un certo punto entra un altro giocatore in campo, giusto per utilizzare magari una metafora sportiva, cioè l'Europa. Ora non è che le regioni non ci fossero in Europa, c'erano prima, ma è da Maastricht in poi che si ha un impegno maggiore dell'Europa in ambito regionale. Qui riassunto molto brevemente dove troviamo delle regioni, le troviamo nel Trattato dell'Unione Europea, nel TFI UE, nel Comitato delle Regioni, poi abbiamo la politica di coesione. A un certo punto si comincia a parlare anche di Europa delle regioni, come se ecco si volesse sostituire gli Stati con le regioni. Ovviamente adesso non si parla più di Europa delle regioni, ma indubbiamente le regioni hanno un ruolo, sempre un ruolo crescente all'interno del contesto europeo. Basti pensare al numero crescente di delegazioni regionali a Bruxelles. Ecco perché oggi si tende più che altro a parlare di Europa con le regioni. Cioè l'idea è quella di creare una rete che non deve essere necessariamente gerarchica, i cui nodi, i cui nodi sono attori non solo statali ma anche sovrastatali locali e appunto regionali. Ovviamente ci sono delle criticità. Due criticità maggiori sono innanzitutto il fatto che non si ha in Europa un'idea unitaria di regione. Quello che noi chiamiamo regione in Italia non è la regione in Germania o in Spagna o nell'Europa dell'Est. L'altra criticità è il ruolo delle regioni nella formazione e nell'attuazione del diritto comunitario. Quello che di solito si chiama fase ascendente e fase discendente. Cioè le regioni devono attuare quella parte di diritto comunitario che le riguarda, ma dovrebbero in qualche modo essere protagoniste anche nella formazione del diritto comunitario, ovviamente nelle parti che riguarda appunto la politica regionale. altro aspetto che l'ho chiamato le regioni e l'Europa, è il modo in cui la legislazione italiana ha introdotto le regioni in Europa. Si parta dal 1996 con questa legge con la quale è possibile per le regioni istituire le proprie delegazioni a Bruxelles, poi riforma il titolo quinto. Abbiamo queste due leggi, quella del 2005 e quella del 2012 che è un aggiornamento della legge 11 dopo Lisbona sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione Europea, quindi leggi che devono essere poi recepite negli ordinamenti regionali. Un aspetto fondamentale sono queste due sentenze della Corte Costituzionale del 2004 e del 2006 sul potere estero delle regioni, che confermono quanto io ho detto. Cioè si ha una presenza sempre più massiva della Corte Costituzionale che tende a restringere quelle che sono gli ambiti, le possibilità di intervento normativo legislativo delle regioni in accordo col nuovo anche articolo 117 della Costituzione. Ora vediamo come la Regione Puglia ha affrontato queste problematiche. Allora durante la prima riunione del Consiglio regionale che si è tenuta il 13 luglio 1970, tutte le parti politiche presenti in Consiglio, eccetto l'MSI, insomma abbiamo visto qual era la posizione dell'MSI nei confronti del regionalismo, ecco tutti i consigli regionali, eccetto quelli dell'MSI, sono concordi nel ritenere che le regioni non dovessero essere delle semplici esecutrici di quanto veniva stabilito a Roma, ma le regioni dovevano essere degli attori che dovevano entrare pienamente nello sviluppo del paese. Quindi stabilire con Roma una collaborazione di tipo dialettico, una collaborazione, un dialogo continuo. Tramite le regioni, in questo modo tramite le regioni anche il cittadino non diventava un semplice destinatario delle norme, ma diventava egli stesso partecipe dell'azione di governo e partecipe della formazione della volontà collettiva. Furono prospettive che vennero riprese nel 6 luglio 1970 da Gennaro Sussero Gliuzzi, che venne nominato presidente dell'Aggiunta regionale, il quale però auspicò anche che lo Stato non opponesse resistenze al trasferimento delle funzioni, cosa che in realtà accadde perché in quell'anno e mezzo circa, tra appunto la nascita delle regioni e i decreti delegati, la regione Puglia oltre all'amministrazione al lavoro sullo statuto ebbe anche il compito di analizzare le bozze di questi decreti e il giudizio che venne espresso un po' da tutti i rappresentanti dei partiti all'inizio del Consiglio regionale era un giudizio estremamente negativo, cioè veniva inficiata la possibilità la capacità legislativa della regione e quindi la possibilità della regione di intervenire sui territori. Di fatto durante le prime due legislature, ma sono problemi che poi caratterizzano anche le legislature successive, emergono appunto quali problemi della regione? Innanzitutto quello appunto delle deleghe insufficienti e poi il problema del sistema dei controlli, cioè un commissario di governo doveva analizzare la produzione legislativa della regione e intervenire qualora questa produzione fosse contraria a ciò che prestabiliva la legge. Ed era spesso, soprattutto nelle prime due legislature, un intervento massivo, il che ritardava molto l'intervento legislativo della regione e quindi la risoluzione dei problemi che emergevano, che cominciavano ad emergere all'interno del contesto e del territorio nazionale. Questo era anche molto frustrante perché c'era la volontà all'interno del Consiglio, emerge la volontà di voler risolvere questi problemi, però ecco molto spesso non veniva data la possibilità alle regioni di risolverli. L'altro problema che emerge è il fatto che la finanza era fondamentalmente inadeguata, i fondi concessi dallo Stato erano inadeguati ed erano vincolati, quindi la regione non poteva liberamente destinare fondi necessari ai vari problemi che via via emergevano all'interno del contesto regionale e poi la mancanza di programmazione nazionale, cioè nella programmazione nazionale le regioni di fatto mancavano. Che cosa succede successivamente? Nell'estate del 1983 Angelo Monfredi, che era un democristiano che fino ad allora era stato più volte assessore all'agricoltura ma che quell'estate era un semplice consigliere, inizia a far circolare all'interno della regione, sia in giunta che in consiglio, un documento nel quale analizzava ciò che era andato discutendosi nei primi 13 anni di vita regionale. L'esito di questo documento era che la regione, quale era stata pensata all'inizio che abbiamo visto emergere già durante il primo consiglio regionale pugliese, non era mai stata realizzata e invece la regione come si era realizzata non funzionava. C'erano situazioni interne alla regione, i problemi della regione non erano soltanto esterni ovviamente, c'erano problemi nei rapporti fra giunti e consiglio per esempio, c'erano problemi nella classe dirigente, nei partiti, però c'erano anche problemi esterni. La sensazione ecco era che non solo dovesse essere riformate le regioni, ma dovesse essere un po' ripensato complessivamente il centro, sia il centro che le autonomie. Come risposta a questo problema che emerge grazie all'intervento di Angelo Monfredi, l'anno dopo la regione Puglia promuove la nascita di questa commissione speciale per l'ordinamento istituzionale e amministrativo della regione. Siamo a un anno circa dalla fine della legislatura, la commissione si insedia, riesce a rinunirsi e anche a produrre un documento preliminare in cui analizza soltanto quelli che erano i problemi interni alla regione e demandando alla nascita, una nuova commissione che si presumeva sarebbe nata in seguito alla nuova legislatura, la continuazione di questa indagine. In realtà come si può vedere nascono diverse commissioni speciali nell'86, nell'88, nel 91, ma in realtà furono commissioni molto effimere che o non riuscirono mai ad insediarsi oppure se si insediarono si risolsero in poche sedute e di fatto non riuscirono a produrre nulla. Però come vedete siamo negli anni 80, quindi siamo in un periodo in cui anche nella regione Puglia, che in qualche modo può essere vista come una sorta di microcosmo in cui si riflettono tutti i problemi anche nazionali, anche nella regione Puglia cominciano esserci quei problemi che abbiamo visto essere tipici del regionalismo italiano e anche del mondo appunto dei partiti in quel periodo. Nel 1990 il neopresidente della giunta regionale Michele Bellomo durante appunto il discorso di insediamento prese atto del fallimento, disse proprio così, dell'esperimento regionale e della necessità di una nuova stagione costituente. In realtà furono aspettative che produssero soltanto una nuova commissione speciale, ma nulla di concreto. Però ecco nella regione Puglia non è che mancavano idee prospettive, addirittura nel maggio del 1993 si tenne questa seduta monotematica del consiglio regionale in cui emersero tutti quegli elementi che poi sarebbero stati alla base delle le leggi Bassanini e della riforma del titolo quinto, quindi la necessità di regolamentare in maniera differente i rapporti tra Stato e regioni ed enti locali, la necessità di non ritagliare più all'interno del sistema di funzioni dello Stato gli ambiti di attribuire alle regioni, ma solo quegli ambiti, quelle competenze da attribuire allo Stato perché per esse era richiesta una gestione unitaria, obbligare le regioni ad affidare funzioni amministrative agli enti locali perché in questo modo le regioni avrebbero potuto dedicarsi all'attività legislativa e all'alta amministrazione e poi riformulare il dettato costituzionale sulla base del principio di sussidarietà. Però come si vede ecco da questa seduta nasce soltanto una nuova effimera commissione speciale per le riforme istituzionali. Questo perché accade? Perché si verifica anche in Puglia quello a cui abbiamo accennato precedentemente, c'è una progressiva disgregazione della piattaforma partitica che reggeva quella regionale, una sempre dipendenza, maggiore dipendenza politica delle periferie dal centro, mentre i nuovi partiti non riescono ad assumere il ruolo dei vecchi partiti e manca una seria riflessione sul regionalismo. In qualche modo emblematica di questa situazione è il fatto che le leggi Bassanini nella regione Puglia le recepisce soltanto nel 2000, ottobre del 2000, un anno dopo sarebbe stata fatta la riforma del titolo quinto. Un discorso analogo può essere fatto nel rapporto con gli enti locali. Qual era il problema? Si temeva ecco di rendere la regione quello che lo Stato era stato appunto per le regioni, cioè una sorta di ente verticistico che doveva comandare agli enti locali. In realtà il problema della delega degli enti locali si presenta molto presto all'interno delle discussioni consigliari della regione Puglia, addirittura le primi proposte di legge e disegni di legge si hanno nel 73, nel 72 e nel 73 si afferma addirittura la necessità di fare una legge quadro sulla delega agli enti locali in modo da definire in maniera in equivoca quelli che devono essere le caratteristiche di ordine generale di questa delega. Però di fatto la delega diventa un po' un mantra che insomma compare in tutti i programmi di governo, però non si riesce mai ad attuare. Certo c'era il problema dall'altra parte, ovvero gli enti locali avevano difficoltà ad attuare, gli enti locali di poterla attuare. E anche dopo insomma nel 1990 dopo la legge 142 si afferma nuovamente la necessità di questa delega, anche perché la legge 142 poneva gli enti locali non come entità subordinate, ma sullo stesso piano delle regioni. Ma nonostante questo la situazione non migliora. La situazione ovviamente si complica in qualche modo dagli anni 90 al 2000, quando anche nella regione Puglia entra l'Europa. Non è che prima l'Europa non c'era, addirittura nel 1977 per esempio venne creata una commissione che aveva tra le altre cose anche il compito di occuparsi dei rapporti con la CE, però poi fu dagli anni 90 e poi dal 2000 che invece la presenza dell'Europa si fa più massiva. Per esempio dal novembre del 2000 anche la Puglia ha un suo servizio di delegazione a Bruxelles, avente tutta una serie di compiti che qui ho brevemente delineato. L'Europa entra nel nuovo statuto regionale e nella legge 22 che recepisce le leggi Bassanini, però anche in questo caso abbiamo un forte ritardo della regione Puglia nel recepire quelle norme nazionali che avrebbero potuto consentirle o le consentivano di entrare pienamente e nella fase discendente e nella fase discendente della formazione del diritto comunitario. La legge del 2005 viene recepita la legge Necuglia nel 2011, quindi sette anni dopo, appena un anno prima la nuova legge regionale del 2012, la quale a sua volta viene recepita nel 2018, ancora una volta, sette anni dopo. Perché questo ritardo? Ancora una volta sicuramente ci sono problemi interni alla regione, ci sono anche problemi interni ai partiti politici e alla classe dirigente, però è anche vero che questo ritardo è imputabile proprio al fatto che la Puglia, al pari di altre regioni, ha avuto e continua ad avere difficoltà a capire esattamente il proprio ruolo all'interno del sistema di governo italiano. Quindi qual è la scommessa regionale quindi, dovendo ritornare a livello nazionale e lasciando un attimino la Puglia, però come ho detto ecco la Puglia in qualche modo riflette, è una situazione di microcosmo che riflette la storia nazionale. Qual è questa scommessa? Quella di dare alla Repubblica una fisionomia policentrica e quindi passare da una visione piramidale, gerarchica a una sistemica, avendo una stretta integrazione funzionale tra livelli di governo locale, nazionale e comunitario. È necessario quindi di pensare al concetto di centro. Quindi dall'idea di centro bisognerebbe passare, iniziare a pensare, a parlare di centri, centri quali nodi di una rete fitta di reciproche relazioni e interdipendenze, più o meno questo molto schematicamente è il passaggio che dovrebbe avvenire. Tanto più che, come ho detto e come si è vinto, insomma anche in Puglia emergono necessità di tipo territoriale, emergono identità territoriali a cui comunque bisogna far fronte. Per farlo però è necessario avviare una riflessione sul regionalismo. Allora a me piace molto questa definizione regioni senza regionalismo che è stata utilizzata per una prima volta nel 1980 da Giorgio Pastori, in questo intervento sul mulino, ma che poi è stata variamente ripresa ed è stata ripresa soprattutto dal 2011 in poi, non a caso. E cosa dice? Cioè Giorgio Pastori sottolinea come fino a quel momento, insomma negli anni 80, ma è appunto un'idea che può essere tranquillamente applicata anche agli anni successivi, le regioni sussistessero senza appunto una serie di riflessioni sul regionalismo. Però ecco quando si parla di regionalismo non si deve soltanto intendere una teoria delle regioni, ma una proposta di rinnovamento dello Stato da realizzare attraverso le regioni. Quindi bisogna aver chiara ecco che cos'è il regionalismo e capire cosa si vuole e anche cosa si può fare ovviamente. Perché non sempre quello che si vuole si può fare, però capire anche cosa si può fare è attuarlo. Cioè quello che è successo dal 2001 in poi, in cui abbiamo avuto tentativi di riforma della riforma, la Corte Costituzionale che interviene pesantemente, ognuno che dice la propria, si ha una situazione di confusione, di sclerosi di tipo istituzionale, insomma la situazione odierna con il Covid è anche una dimostrazione che le cose non vanno e non vanno certamente da adesso con il Covid, ma non vanno da anni, da decenni. Vorrei concludere questo breve intervento con una citazione di Luciano Vandelli, che è stato un giurista, è morto lo scorso anno, ma è stato anche dato un contributo molto importante alla riflessione sul regionalismo, non solo dal punto di vista giuridico. Cosa dice Vandelli in questo intervento del 2011? Unificando le regole se in quanto necessario per tutelare i valori connessi all'unità, differenziandole per consentire innovazione, flessibilità e soprattutto adeguamento alle specifiche condizioni, con un obiettivo di fondo riconducibile a quella equità sostanziale che merita perseguire, precisamente cogliendo le indicazioni tracciate dalla carta, non più appiattendo, ma valorizzando le dinamiche e le identità dei territori. Ho messo una breve bibliografia qualora vogliate approfondire determinate questioni, alcuni di questi contributi sono anche facilmente rintracciabili sul web e vi ringrazio e scusatemi se sono sondata molto velocemente per alcune questioni, ma il tempo è quello che è.